salve a te carissimo marcello e a tutti i carissimi amici di top planet e da un po di tempo che non ci vediamo vi invio questo video da da vado ligure perché mi trovo a vado ligure perché per impegni lavorativi e lunedì ritornerò nella terra del mister allegri mi sarò a livorno sempre per motivi lavorativi almeno per almeno per 6-7 mesi togliendo questo sono felice di ritornare tra gli amici top planet perché era un bel pezzo che non non inviavo video e non potevo esibirmi dal parlare della var intanto premetto e sono certo che la juventus è sempre la squadra favorita per quello che concerne il campionato italiano e la squadra da battere perché dal punto di vista qualitativo della rosa è nettissimamente la squadra più forte dal punto di vista della qualità della rosa anche se il napoli quest'anno è una squadra matura e può cercare il colpaccio in europa sono convinto che ce la giocheremo siamo tranquillamente tra le otto squadre più forti d'europa giustamente arrivando poi lì in quel punto i particolari faranno la differenza comunque sono speranzoso però non ripeto non potevo esibirmi dal dire la mia sulla var premetto che la var secondo me è una cosa positiva molto positiva perché fa sì che molte ingiustizie e molte cose che possono sfuggire all'arbitro dentro l'area di rigore vengono viste tramite la tecnologia e aggiustate le valutazioni dell'arbitro e questo credo che sia sacrosanto e giusto sono favorevolissimo però la var che è una macchina è controllata da il var un tecnico messo lì davanti al monitor che guarda il tecnico naturalmente è un uomo è un uomo essendo uomo a discrezione sua chiede di chiede all'arbitro di verificare un qualcosa che lui ha notato purtroppo questo fa sì che ci siano in certe occasioni purtroppo in questo inizio di campionato l'abbiamo visto più volte i due pesi e le due misure perché da quello che si evince la juventus è la squadra dove la var viene più utilizzata e più controllata mentre in altre partite invece la var non viene utilizzata l'ultima situazione quella del fallo di Steiner sul Papu Gomez è un qualcosa a dir mio a prescindere che si parli di Juve un qualcosa di scandaloso perché tu non puoi annullare un gol per un fallo che l'arbitro non ha visto 15 secondi prima della realizzazione del gol perché questo vorrebbe dire che se la var si accorgesse di un fallo fatto 40 secondi prima di un gol tu andresti a fare annullare un gol 40 secondi dopo che l'arbitro non si è accorto è assolutamente un qualcosa di inconcepibile la var si deve utilizzare per i rigori per i fuorigioco per i gol non gol e per lo scambio di persone in caso di espulsione in quello si deve utilizzare e invece la var in altre partite in altre situazioni non interviene e non si fa fronte di certe situazioni vedi ahimè purtroppo molte situazioni favorevoli in casa inter quindi come ho detto ripeto favorevolissimo alla var favorevolissimo al cento per cento però la discrezionalità del tecnico il var fa sì che la var sia sempre sotto l'occhio del ciclone e questo non è non è bene bisogna trovare dei metodi che fa devono far sì che la var sia accettata da tutti adesso amici miei vi saluto come ho detto da padoligule un saluto e un abbraccio a tutti gli amici top planet a marcello chirico e alla prossima e sempre forza juve